Siamo alla ricerca in giro per il mondo di aziende che hanno avuto delle difficoltà ma che si stanno riprendendo bene con il nostro portafoglio SHOW, Shares of the World. Non sono comprese in questo portafoglio come sapete le imprese americane perché le imprese americane di nazionalità americana sono coperte da noi in molti altri portafogli, newsletter, videocorsi eccetera perché sono quelle che ci piacciono di più, sono quelle che ci interessano di più. Qui invece cerchiamo le altre aziende in altri mercati che magari sono delle pelle, normalmente sono delle perle, questo portafoglio sta andando molto bene, davvero molto bene. Questa settimana questo portafoglio sta andando bene, l'ho inserito, il titolo nuovo l'ho appena inserito, il portafoglio sta andando bene, ovviamente l'ho inserito adesso quindi la quotazione Google inserirà domani, domani in apertura perché come sapete la nostra politica è quella di darvi tempo di eventualmente se volete realizzare quello che noi suggeriamo di darvi il tempo di farlo perché sennò i nostri suggerimenti non servono a niente. questo portafoglio sta andando molto bene perché sta facendo su 309 giorni, quindi meno di un anno, sta facendo il 29,12% che se lo annualizziamo fa il 68,78% e quindi battiamo lo standard del 16,32%, quindi bene, bello, bello, siamo contenti e sapete che noi mettiamo sempre una valutazione delle immagini di confidenza dei rendimenti perché i portafogli normalmente hanno un numero elevato di titoli e quindi normalmente non vengono comprati tutti, ne viene comprata solo una parte, viene comprata in maniera casuale nel senso che tutti i trader comprano nel momento in cui pensano di voler comprare, magari nel momento in cui hanno i capitali per farlo in altri momenti non ce li hanno allora bisogna fare una statistica, bisogna calcolare i limiti di confidenza che significano semplicemente questo, il rendimento del portafoglio è stato medio del 29% per chi avesse scelto solo in maniera casuale alcuni titoli soltanto del portafoglio avrebbe ottenuto un rendimento che ha un rendimento minimo del 23-59%, 24% circa quindi diciamo un rendimento con i controfiocchi che annualizzandolo diventa il 32% e se fosse stato particolarmente fortunato o magari bravo sarebbe riuscito ad ottenere un rendimento più alto di questo qui medio il 29% però con il 95% di probabilità non sarebbe riuscito ad andare sopra il 56% e che significa annualizzandolo un 100% annualizzato ripeto, bontà sua bravo e forse vi interesserà vedere l'andamento dell'equity line di questo portafoglio che è sempre stato sostanzialmente in crescita salvo questa breve pausa qui ma sostanzialmente diciamo l'equity line ha sempre resistito bene alle oscillazioni del mercato bene anche questo ci conforta parecchio arrivederci, a presto, grazie